L'appuntamento dedicato all'animazione su Voci.fm Radio è Battite Animati Summer Time. Sono Stefania Dall'Io, questo è uno dei più podcast. Parti forte il cuore, su partiti animati, oggi molto è bello, collegatevi, c'è Stefania Dall'Io. Quest'anno ad ottobre su TV Tokyo e le sue affiliate sarà presentata la seconda stagione di Captain Tsubasa, il remake dell'anime calcistico per eccellenza Oli e Benji, basato sullo spoco manga scritto e disegnato da Yoichi Takashi. La nazionale nipponica Under-20 parteciperà ad una tournée europea e si troverà ad affrontare diverse squadre in preparazione al Mondiale Giovanile. Tra gli avversari più temibili, l'indiscusso Yunfu Kuyama, che ricorderete con il nome di Karl-Heinz Schneider, capitano della nazionale tedesca. Due le novità principali di questa nuova stagione. Il regista Katsumi Ono sostituirà Toshiyuki Kato, lo studio Kai invece prenderà il posto di David Production. La sceneggiatura tornerà ad essere supervisionata da Atsuhiro Tomoyaka, mentre Hajime Watanabe penserà nuovamente al character designer e alla direzione generale. Purtroppo non sono ancora state segnalate notizie in merito all'arrivo in Italia di questa seconda stagione di Captain Tsubasa, ma ci auguriamo che arrivi prestissimo. Restate sintonizzati su Voci.fm Radio per non perdere il prossimo appuntamento con Battiti Animati Summer Time. Da Stefania Dallio per il momento è tutto. A presto! Basta e porta il cuore su battiti animati, voci, foto e fè, collegatevi, c'è Stefania Dallio.